al ritorno magari andiamo vai dai io ti devo filmare vai vabbè firmalo te ehi firmalo tu che mi hai detto andare avanti firmalo te così impara seconda qua è tutto seconda tutta seconda non so che marcia cambia guardalo guardalo va lo scogliattolo là sotto guarda guarda no scappato misi che sono dei missili non l'ho neanche fatto in tempo ho scogliattolo è andato guarda guarda Grazie a tutti 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 Grazie a tutti